Il trofeo delle regioni di Palacanestro è ritenuto il più importante campionato italiano per selezioni regionali under 15. Sotto il loggiotto di San Rocco, gremito da una folla di ragazzini in casacca sportiva, a prendere la parola per prima è stato il prefetto di fermo Emilia Zarrilli. Di seguito c'è stato il Presidente della provincia Fabrizio Cesetti che ha dato un messaggio di come bisogna fare tesoro delle sconfitte sportive che sono motivo anche di crescita come le vettorie. Anche stavolta erano presenti numerosi sindaci del territorio in testa nella Brambatti, numerose autorità politiche e sportive regionali. Ad infiammare gli animi e ad accendere l'entusiasmo dei ragazzi è stato l'appello del Presidente della Federazione Italiana Palacanestro Dino Meneghin che ha sottolineato come lo sport e la Palacanestro in questo caso siano fondamentali per la formazione dei ragazzi. E come questo trofeo sia importante per la crescita e per far emergere nuovi piccoli e grandi campioni. Penso che sia un'ottima occasione per testare sul campo la qualità tecnica e atletica delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Qui sono i migliori giocatori e i migliori giocatrici di tutte le regioni. In pochi giorni si incontrano sul campo, quindi un ottimo modo per vedere a che punto sono della preparazione, quanto c'è da lavorare per il futuro ma anche un modo nostro per la federazione di raccogliere il frutto del bellissimo lavoro di tantissime società in tutta Italia. Quindi i complimenti vanno a loro, ai loro allenatori, ai comitati regionali che tanto lavoro, ai comitati provinciali ma soprattutto ai loro genitori, ai ragazzi che li incoraggiano, che li sostengono.